Ok, motore Silenzio tutti Quando dico calcagno entra in campo Silenzio Calcagno Silenzio 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 Gira, lavi. Sì, grazie. 123, 8 prima. Grazie. Buona. Azione. Giorno a tutti. Stop. Allora, guarda. No, sbagliato qualcosa. Quello che ci serve in realtà è... Ecco. Ok? Azione. Ok. Battiamo un ciak. Un ciak muto. No, è una congestione. Però qui c'è strada. Scherichine. E' una. Allora. No, vota. Ah. Non è. Ah. 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 Daniele, secondo me dobbiamo andare leggermente più indietro con questa o qui ci vediamo. Quanto? No, è tipo necessario passare qua. Secondo me siamo riflessi. Possiamo pure levare. Fa bene questa posizione. Questo qui si può ruotare un po'. Che numero hai? Era già pronto? Dai che gocciola fermiamo la macchina Gian Lorenzo. Blocchiamo, blocchiamo, blocchiamo. 37,4 prima. Blocca. Stop. Allora secondo me non la devi fare da seduto, la devi fare in piedi. Bene meglio se la fai in piedi. Comunque la devo sporcare. Si può sporcare? Cosa? Non credo. A terra. Dipende, domani cosa c'è? Domani cosa c'è? Di notte lei prima di questo momento qua. E questo dovrà essere pulito perfettamente eh? Di notte in teoria sì. Fantastico. Veramente? Però è nella giornata. Quello. Quindi lo dobbiamo ridipingere. Questo mi stai dicendo? Sì. Capiamo col voglio. Facciamo un bicchiere. Vai, vai, vai. Io lo dici te la prima volta? Sì. Azione Giovanna. Sì. Mergiti. Sì.